questa è la spiaggia che si può anche raggiungere con gli automobili e qui tutto sembra piuttosto che una spiaggia sembra qui di stare in un campeggio però cavolo la pila mi ciuccia moltissimo quando è in modalità videocamera questa macchinetta del cavolo porca Eva porca l'acqua questi graffiti sono una bellezza da pianto isterico da quanto sono belli qui ce ne sono altri c'è il sottopassaggio perché sopra c'è la lina ferrata dovrebbero essere ceniate di graffiti senza altro eccoli come direbbero in America terrific per dire sono super attivamente belli qui un po' scuro perché fra poco il sole qui sotto il sottopassaggio smetterà di inviare questo sole accecante e ripara da questi raggi UV UV UVB Fanculi comunque non ho parole veramente straordinari questi graffiti mettono paura da quanto sono fatti bene ma qua via via via